Pensiamo sia una cosa per noi importante, questa assemblea verrà aperta dalla lettura di un intervento di Antonello Brunetti che non può essere qua con noi e a cui tutti noi siamo molto riconoscenti perché Antonello Brunetti è un uomo che sono vent'anni che si batte contro il terzo valico è per questa ragione che crediamo che sia importante, che nonostante che lui non possa essere qui con noi l'assemblea vogliamo aprirla leggendo uno scritto che ci ha mandato e che leggerà Franco Casagrande Buonasera a tutti, io sono Franco